hai sempre amato la velocità sentirti vivo correndo libero percepire la resistenza del vento addosso per quel momento devi essere pronto sentirti sicuro con un casco come quello che ti ha consigliato gabriele un esperto moto turista con cui adori parlare di strade e paesaggi la sua competenza e simpatia attirano clienti distanti centinaia di chilometri dal suo punto vendita è come un rito devi curare ogni dettaglio e saper scegliere per questo ti sei affidato al giovane e dinamico lorenzo dice di aver imparato ad andare in moto prima che in bicicletta ti lasci trasportare dal suo entusiasmo per scegliere gli stivali giusti come te abbiamo già soddisfatto un milione di motociclisti anche grazie all'altissima preparazione tecnica di michela che con poche domande sai indirizzare il motociclista verso il prodotto ideale in moto abbigliamento batte un cuore di motociclista